Nella tarda serata di ieri i poliziotti del commissariato di Grottaglia hanno denunciato in stato di libertà un 45enne accusato di aver dato fuoco all'auto della sorella. Gli agenti sono intervenuti presso l'abitazione della donna dove era parcheggiata l'auto, una Fiat Panda oggetto del danno. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che dopo aver spento le fiamme hanno informato le forze dell'ordine della presenza del liquido infiammabile e quindi hanno immediatamente avviato le indagini. Grazie anche alla visione delle immagini di un sistema di video sorveglianza presente nella zona, i poliziotti hanno individuato il responsabile dell'insano gesto nel fratello della vittima con il quale nei giorni appena trascorsi aveva avuto dei dissidi per motivi strettamente familiari. L'autore dell'incendio, un grottagliese di 45 anni, è stato rintracciato ed accompagnato negli uffici del commissariato dove dopo aver visionato le immagini ha ammesso le sue responsabilità. Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato denunciato in stato di libertà.